Buonasera e ben trovati al Festival della Teologia. Abbiamo questa sera l'occasione di vivere il momento conclusivo di un percorso che abbiamo intrapreso già da tre anni, ma in particolare abbiamo vissuto la tappa estiva durante il mese di agosto e adesso siamo arrivati al momento in cui tiriamo un po' le somme. Lo facciamo con questa formula un po' particolare, era previsto un evento conclusivo da svolgersi a Vallo della Lucania, sede della Diocesi, per poter presentare gli atti del Festival, dei tre anni del Festival della Teologia e Incontri. Naturalmente non è stato possibile farlo, non è stato prudente farlo per le note ragioni che ci impongono appunto prudenza, attenzione e cura delle persone, quindi abbiamo evitato di fare l'evento pubblico e l'abbiamo calendarizzato oggi nel periodo di avvento a pochi giorni dal Natale proprio per vivere anche questa occasione come un modo di prepararci al Santo Natale. Con me in studio c'è Don Bruno Lancuba che è il direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose San Matteo di Salerno. Come vedete una piccola licenza che è consentita dal protocollo dei programmi televisivi è garantita la distanza interpersonale di poter non avere la mascherina durante la diretta. È importante sottolinearlo perché come abbiamo visto anche nel corso delle serate del Festival noi abbiamo fatto molta molta attenzione a gestire un evento pubblico come quello in piazza però con tutte le attenzioni necessarie per garantire l'assoluta sicurezza. Quindi l'abbiamo fatto quest'anno non itinerante in una piazza che abbiamo potuto chiudere, l'abbiamo fatto con l'igienizzazione, con il distanziamento, utilizzando sempre le mascherine anche nel cambio dei relatori. Questo è un segnale importante che anche come Chiesa si è voluto dare durante il periodo della pandemia si è dimostrato come la Chiesa abbia rispettato con grande attenzione i protocolli e questo è un segnale proprio per responsabilizzare tutte le persone. Naturalmente sono collegati anche con noi il Vescovo Sua Eccellenza Monsignor Ciro Miniero, il Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, abbiamo la presidente diocesana dell'azione cattolica Angela Russo e naturalmente siamo in attesa poi di avere anche il presidente del Parco Nazionale Cilento e Vallo di Diano e Alburni, l'onorevole Tommaso Pellegrino, che però in questa giornata fitta di impegni istituzionali non è sicuro di riuscire ad intervenire in tempo per la diretta, però naturalmente quando e se riuscirà a liberarsi dagli impegni istituzionali ci troverà qui e quindi potremo anche raccogliere il suo prezioso intervento. Allora innanzitutto Don Bruno veniamo qui ad una esperienza dopo tre anni, è un po' una tappa che noi abbiamo cercato di rappresentare anche con la pubblicazione degli atti, da un punto di vista anche scientifico, oltre l'intuizione e l'idea di portare la teologia in piazza che noi abbiamo vissuto proprio con il festival, però l'idea di pubblicare poi degli atti ufficiali è un modo anche per dimostrare come questo cammino fatto di una teologia che si presenta in prossimità delle persone possa diventare anche un contributo di riflessione più ampio, da portare anche nelle aule accademiche. Sì, perché è nato da una proposta che Vito ha fatto all'Istituto Superiore di Scienze religiose di Salerno, quello di poter aprirsi fuori dai recindi, come dire, sacri, per usare un'espressione del neovescovo di Napoli, Monsignor Battaglia, e andare ai crocicchi delle strade. È lì, in realtà, vivere questa dimensione. Allora, se si è usciti fuori da quelli che sono le aule accademiche per vivere la teologia nei luoghi in cui la gente vive, è il luogo per eccellenza, è la piazza, laddove convluiscono tutti, è bene che questo lavoro fatto non vada nel dimenticatoio, ma possa essere ancor più messo in mano alle persone per riflettere ulteriormente su quello che, su cui abbiamo riflettuto in questi tre anni. Naturalmente, torneremo poi dopo anche più concretamente a parlare del contenuto di questo testo. Però il festival è un'iniziativa che comporta un grosso sforzo organizzativo, uno sforzo organizzativo che ha visto protagonista l'azione cattolica della diocesi di Vallo della Lucania. È un'iniziativa questa che ha avuto anche una valenza interdiocesana, ma grazie all'azione cattolica della diocesi di Vallo della Lucania è stato possibile anche coinvolgere le cellule territoriali di altre presenze appunto dell'azione cattolica e questo ha consentito appunto anche al festival di radicarsi in luoghi dove anche la struttura organizzativa originaria casomai faceva fatica ad arrivare. È stato un valore aggiunto molto importante questo dell'azione cattolica che sottolinea anche quello che è l'impegno e il carisma associativo. Quindi su questo direi alla nostra presidente diocesana Angela Russo di poterci raccontare questa esperienza che lei ha vissuto nei primi due anni come coordinatrice operativa delle attività che sono state rivolte all'ACR, attraverso l'ACR ai ragazzi, perché questa è stata un'altra bella intuizione che abbiamo voluto concretizzare, cioè di avere un momento di riflessione per gli adulti e poi parallelamente gli stessi temi affrontarli con i ragazzi attraverso l'azione cattolica, l'ACR. Quindi direi ad Angela naturalmente che poi quest'anno ha assunto il ruolo di presidente, di viverla appunto in veste diversa, però di raccontarci appunto come è stata questa esperienza e come è stata portata avanti anche dall'azione cattolica. Intanto buonasera a tutti, saluto sia voi in studio, Sua Eccellenza che è collegato e tutti coloro che ci stanno seguendo in diretta. Il Festival della Teologia è sicuramente una bellissima esperienza, anche innovativa se vogliamo, di chiese in uscita. È un po' il mandato che Papa Francesco ci ha dato sin da quando si è insediato e come azione cattolica. Sin dall'inizio abbiamo accompagnato il Festival della Teologia proprio perché ci permette di sperimentare quelli che sono i due cuori dell'esperienza associativa dell'azione cattolica. Da un lato la formazione, che è il cuore stesso del servizio che noi offriamo come azione cattolica e quindi cosa più di un Festival della Teologia può offrire davvero dei contenuti formativi alle persone non soltanto dal punto di vista umano ma anche cristiano. E poi l'altro che è quello della missionarietà, cioè attraverso il Festival noi abbiamo permesso ai ragazzi, ai giovani, agli adulti di farsi un po' missionari della fede in quelli che sono i luoghi di vita delle persone, dell'uomo. Spesso quando si pensa alla fede la si pensa come qualcosa per pochi eletti, come qualcosa per chi se lo può permettere, che può qualche fare con i problemi quotidiani, le difficoltà della gestione della vita ordinaria. Invece attraverso questo Festival, il Festival della Teologia, siamo riusciti a dimostrare come la fede in realtà incarni proprio il vissuto concreto, le domande di vita proprio delle persone normali perché quando si pensa alla felicità, il tema trattato il primo anno nel Festival non è una cosa solo per pochi eletti, la felicità è una domanda di vita che coinvolge tutte le persone, così come la vita, la bellezza e l'importanza della valorizzazione in tutti i suoi aspetti. Non è una cosa che riguarda credenti o non credenti ma coinvolge davvero tutti gli uomini, così come la dimensione e la figura della donna. E allora attraverso questo Festival, l'azione cattolica, con il supporto dell'azione cattolica, siamo riusciti a far sì che davvero la fede potesse essere dimostrata come qualcosa che ha a che fare con la vita delle persone e non semplicemente quando parliamo di tutte le persone, non pensiamo solamente tutti nel senso di genere, cioè nel senso che interessa tanto l'imprenditore quanto l'impiegato, il meccanico quanto il professore. Ma parliamo di tutti nel senso anche generazionale che è capace di parlare quindi ai bambini come ai giovani quanto agli adulti. E infatti proprio con i giovani e con gli educatori dell'ACR durante i tre anni del Festival abbiamo proposto dei momenti paralleli proprio per i bambini, perché la fede è una cosa che può essere raccontata e vissuta ad alti livelli anche dai bambini e dai giovani, ovviamente però con dei linguaggi loro specifici. Ecco che allora con i bambini ad esempio abbiamo realizzato dei laboratori che affrontavano lo stesso identico tema che trattavano gli adulti nella piazza poco distante, quindi un percorso proprio parallelo, semplicemente con un linguaggio diverso fatto di laboratori. Quindi il primo anno è stato realizzato ad esempio il cubo della felicità, il secondo anno il fiore della vita. Quest'anno a causa del covid purtroppo non abbiamo potuto coinvolgere i bambini ma abbiamo reinterpretato l'impegno della fascia più giovane dell'azione cattolica coinvolgendo i giovani, tre giovanissime che hanno intervistato la mamma del beato Carlo Acutis Antonia Salzano all'occasione del contenimento del pregno incontri 2020. E anche quella è diventata momento di testimonianza perché l'intervista realizzata è diventata un video virale condiviso poi sui diversi social. Quindi diciamo che attraverso questo festival l'azione cattolica ha avuto da un lato l'opportunità di poter sperimentare ancora di più la sua vocazione ad essere una chiesa in uscita e dall'altro poi mettersi al servizio di chi attraverso questo festival ha avuto l'occasione proprio di poter avvicinarsi alla parola che è una parola che parla, che è una parola di vita e che ha a che fare davvero con la vita di tutti quanti noi. Bene, Angela ha raccontato con il suo bell'entusiasmo, devo dire, quella che è stato proprio il modo in cui l'azione cattolica l'ha vissuta, anche il suo predecessore Antonio Voria che è stato con lei, diciamo, il grande trascinatore della base associativa su questo tipo di esperienza. Quindi realmente è stata un'esperienza che si è costruita cammin facendo. Però noi naturalmente abbiamo, come diceva Don Bruno, immaginato questa come un'iniziativa che coinvolgesse a livello scientifico appunto l'Istituto Superiore di Scienze Religiose, quindi la Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, ma immancabilmente essendo diciamo il motore, l'organizzazione della diocesi di Vallo della Lucania abbiamo dato particolare attenzione alla nostra diocesi, a questa diocesi nel momento in cui abbiamo calendarizzato le tappe degli incontri e devo dire che in questo abbiamo trovato anche la bella disponibilità e apertura da parte del nostro Vescovo, Su'Eccellenza Monsignor Ciro Miniero, che appunto proprio il primo anno io ricordo che si parlava al convegno pastorale dell'esigenza della Chiesa anche in uscita, si stanno, si stavano declinando i verbi di Firenze proprio per volontà del Vescovo e quindi all'interno di quel ragionamento che la Chiesa ogni anno è chiamata a fare in maniera appunto condivisa con il convegno pastorale è venuta poi anche la condivisione con il Vescovo di questo progetto. Quindi a me farebbe piacere adesso sentire la sua voce proprio perché è stato bello ed è bello poter sapere che la diocesi di Vallo della Lucania è centrale in un progetto come questo proprio perché si valorizza il territorio e si fa vedere come la Chiesa in uscita, la Chiesa di frontiera, la Chiesa che si fa prossima non è Chiesa di periferia. Certo, grazie, grazie Vito, un saluto a te, un saluto a Don Bruno, ad Angele e a tutti coloro che ci stanno seguendo attraverso lo strumento televisivo e un grazie anche alla televisione e ai suoi presidenti a quanti lavorano. E' stata certamente un'occasione bella e avete preparato oramai già la terza edizione fatta un qualche cosa di bello, bello non solo esteticamente, bello per la sua dinamicità, portare in piazza, nel luogo dove la gente si incontra, tematiche teologiche e fa riflettere, a meglio riflettere tutti quanti insieme sui temi della vita della fede e come questi temi in fondo nascono dalle domande che ogni persona, credente e non credente, si pone e qualche cosa di straordinario, è veramente bello. Tutto il mio appoggio, come tu dicevi, sin dal primo momento, in fondo da quando sono venuto qui, sono passati già tanti anni, a Vallo della Lucania la mia preoccupazione è stata così, non c'è solo una povertà fisica, è una povertà dovuta alla mancanza del necessario, pensare che già questo è qualche cosa di insopportabile, pensare che ci sono persone che non possono vivere bene e con dignità la propria esperienza di vita e l'esperienza delle proprie famiglie. anche altri tipi di povertà che chiedono a me una risposta sempre, quotidianamente e questo andare verso il fratello significa ascoltarlo, significa poter… attenzione, non mi riferisco ai bisogni, quelli che ognuno pensa di essere il bisogno fondamentale, al bisogno proprio intimo del bisogno della persona e dare una risposta, ma non per chiudere un discorso, ma per farsi compagno di viaggio, perché le risposte non sempre le teniamo, tutti, per questo abbiamo bisogno di camminare insieme per poter farci carico delle esigenze delle persone che incontriamo e quando venne la mia preoccupazione attraverso i convegni e poi attraverso le tante iniziative è stata sempre quella di uscire fuori. noi siamo abituati ad una chiesa che, secondo i vecchi criteri, ma vecchi, proprio vecchi, prima del concilio Vaticano II, è una chiesa che è monolitica, sta all'interno delle sue strutture e si confronta solo per dire agli altri ciò che devono fare, detto proprio in maniera molto spicciola. Abbiamo bisogno invece tutti quanti di abbeverarci alla fonte del rinnovamento della chiesa, il Vaticano II, per poter farci, appunto, dicevo prima, compagni di viaggio e condividere, condividere. Ecco perché sin dal primo momento mi sono sforzato di pormi non solo in ascolto, ma anche di porre la chiesa di Vallo della Lucania in ascolto delle nostre comunità e questo lo abbiamo fatto attraverso le tante, tante iniziative, ma c'è ancora tanto da fare, c'è ancora tanto da fare. Per questo questa iniziativa, messa insieme con tutte le altre, segna un cammino, segna un cammino e qui in maniera molto bella perché entra subito nei perché delle persone, nei perché della storia. Allora auspico che questo cammino possa continuare, continuare sempre in quella sinergia necessaria. Se non perdiamo quell'abitudine a diventare sempre autoreferenti, non riusciremo mai ad incontrare gli altri perché vorremmo che gli altri incontrino noi e non noi gli altri. Allora lo sforzo che vedo in questa iniziativa è proprio questo e per questo auguro un proficuo lavoro. Grazie, grazie. Eccellenza perché è proprio questo lo spirito con cui si è immaginato il festival. Ad esempio anche il titolo stesso del festival che è Incontri voleva dare da subito l'idea di uno spazio in cui vivere la relazione. E anche il testo che abbiamo pubblicato raccogliendo i tre anni di esperienza del festival ha avuto questo titolo Ai crocicchi delle strade, proprio naturalmente una citazione evangelica, ma proprio per dare il senso della dimensione di prossimità che il Signore ci chiama ad assumere. Devo dire che Angela accennava prima anche ai temi che noi abbiamo scelto di volta in volta, sempre dei temi che potessero appunto non essere autoreferenziali. Allora, Don Bruno, noi siamo partiti da ragionare sulla felicità per poi soffermarci sul tema della vita e poi quest'anno abbiamo affrontato il tema della donna in una naturale continuità di ragionamento e di condivisione di contenuti, perché poi effettivamente sono degli aspetti questi che interpellano non solo il credente, ma ciascun uomo, ciascuna persona che intende vivere la propria esperienza umana con consapevolezza. Permettetemi anzitutto di ringraziare il mio Vescovo Monsignor Miniero per la sua presenza e per il suo accompagnamento, per il sostegno, per l'ingoraggiamento. Diceva una cosa che è necessaria per fare teologia, il porsi in ascolto. Diceva io mi sono posto in ascolto anche la chiesa di Vallo, ma anche per poter fare teologia è necessario porsi in ascolto, porsi in ascolto della parola di Dio, porsi in ascolto dell'uomo. E quindi abbiamo iniziato da quella che è l'aspirazione profonda del cuore dell'uomo, quello di poter essere felici, beati, dice l'Evangelo. E allora si è pensato di concentrare l'attenzione su questo con la consapevolezza di poter dire una parola concreta, forte, sulla felicità, che non è una parola nostra, ma che è la parola del Signore, l'Evangelo, la lieta notizia, ed indicare l'unico che può essere capace di rendere felice ogni persona e il popolo, Gesù Cristo. Quindi abbiamo ascoltato l'aspirazione profonda del cuore dell'uomo e poi abbiamo, come dire, indicato all'uomo a chi guardare, verso chi rivolgersi per poter soddisfare questo desiderio, l'unico che pienezza anche di felicità. Io direi, per entrare anche un po' nel merito di quello che è il testo che abbiamo pubblicato, allora innanzitutto abbiamo fatto una scelta di mettere in copertina qualcosa che rappresentasse questo senso di prossimità e abbiamo scelto un quadro di un grande artista cilentano, Andrea Guida. Questo è un quadro che si intitola Salivano dai campi, quindi non ha nulla di religioso, apparentemente, ha di religioso il fatto che parla dell'uomo. Infatti questo si inserisce in un ciclo pittorico che Guida aveva fatto, ispirato al Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi. Questo quadro è significativo proprio perché mostra appunto al di fuori dell'ambiente e anche visivamente della classica arte sacra, di come il senso di prossimità sia quello a cui la Chiesa è chiamata. Quindi qui sono le immagini di contadini, una strada, un crocicchio come ci invita appunto a fare il Signore e proprio questo crocicchio è diventato il punto di riferimento. Ma vi dicevo, noi abbiamo una serie di contributi che sono presenti in questo volume. Si parla naturalmente, oltre che l'ispirazione, viene da Evangelii Gaudium, la gioia dell'annuncio, quindi il testo con cui Papa Francesco di fatto ha manifestato il senso di quello che sarebbe stato all'inizio del suo pontificato il suo magistero, l'impegno della Chiesa che intendeva perseguire. E quella gioia dell'annuncio è una gioia che la Chiesa sta provando appunto a recuperare in questi anni in maniera sempre più consapevole. Poi con un contributo di padre Vincenzo Ippolito abbiamo affrontato il cammino per essere felici partendo dall'Esodo. Poi Don Bruno Lancuba ha tenuto una relazione sulla sapienza e la chiave della felicità. E Don Damiano Modena, anche lui parroco della nostra diocesi, ma anche docente di teologia morale presso l'Istituto San Matteo di Salerno e presso il seminario interdiocesano di Ponte Cagnano, ha parlato della gioia del Vangelo e la vita felice. Dopo queste riflessioni sulla felicità il tema strettamente legato alla felicità, quindi alla scoperta di una vita nuova, di una vita che avesse un senso più profondo e che porta alla felicità, quindi ci ha fatto ragionare sulla vita. E quindi lo abbiamo fatto con la professoressa Giuliana Albano della Pontificia Facoltà Teologica di Napoli, della sezione San Luigi, ma lei impegnata anche nella scuola di alta formazione di arte e teologia, un esempio anche questo di realtà accademica che si apre al dialogo con il mondo attraverso l'arte e lei ha trattato proprio la vita tra arte e teologia. Poi abbiamo avuto un altro docente dell'Istituto San Matteo, Don Marcello De Maio, un altro teologo moralista che ci ha parlato della sacralità della vita e poi abbiamo avuto nel 2019 ospite Don Luigi Maria Epicoco, che è noto a tutti perché oltre ad essere naturalmente un sacerdote di grande senso di prossimità e anche un autore molto seguito, sia appunto sui libri che pubblica, ma anche sui social, quindi una persona che ha saputo accompagnarci nel senso profondo della vita in Cristo. Quindi il passaggio che poi ci porta ad acquisire la consapevolezza del cambiamento radicale che porta a vivere la propria vita relazionandosi e facendosi abitare da Cristo. E poi quest'anno abbiamo fatto invece la scelta di concentrarci sulla figura della donna, anche perché la figura della donna interpella la Chiesa e quindi abbiamo provato a farlo sia attraverso l'intervento della professoressa Maria Rosaria Cirella, sempre del docente dell'Istituto San Matteo, una biblista che ci ha accompagnato in un percorso nell'Antico Testamento, attraverso le figure femminili dell'Antico Testamento. Poi abbiamo avuto la teologa Lorella Parente, anche lei dell'Istituto San Matteo di Salerno, ma questa riprova proprio della qualità, mi viene da dire anche dei docenti che il nostro territorio riesce ad esprimere. È lei che insegna Mariologia, ci ha parlato proprio della donna del mistero, Maria. Tra l'altro proprio la professoressa Parente è stata recentemente nominata da Monsignor Andrea Bellanti, l'Arciviescovo di Salerno, responsabile dell'Ufficio Arte e Cultura dell'Arcidiocesi di Salerno. E poi abbiamo avuto Don Emilio Salvatore, un altro biblista, esperto in particolare del Vangelo di Marco, che ci ha parlato del rapporto di Gesù e le donne. Abbiamo scoperto quindi con grande naturalezza di quanto sia stata profonda la rivoluzione culturale anche che Gesù ha portato. E poi abbiamo concluso con un'altra bella tavola rotonda, aperta a quello che è un filone di ricerca che coinvolge la sezione San Luigi di Napoli. Quindi abbiamo organizzato questa tavola rotonda proprio con il biegno di specializzazione in teologia fondamentale della Pontificia Facoltà Teologica di Napoli, la sezione San Luigi, con una tavola rotonda sulla donna del Mediterraneo. E abbiamo avuto naturalmente tante voci tra queste due testimonianze in particolare. Quella di Lina Morcos, che appunto venendo dalla Terra Santa, lei del movimento dei Focolari, ha potuto portare una testimonianza diretta di quella che è la situazione che si vive in quella terra. E poi abbiamo avuto la professoressa Pina De Simone, che come coordinatrice del biegno di specializzazione e che ha tirato un po' le fila, le diciamo conclusive di questa tavola rotonda. Allora Don Bruno ha partecipato a un po' a tutti i momenti naturalmente di questo festival. Abbiamo fatto appunto questa carrellata, ma effettivamente c'è un senso di continuità profonda che ci porta a ragionare, a riflettere e forse la cosa più importante a vivere un'esperienza che è in grado anche di cambiare i nostri parametri di relazione con gli altri e con la società che siamo chiamati a vivere ogni giorno. Sei partito facendo vedere la copertina del libro ed è interessante perché ci stiamo avvicinando al Natale, nel nostro credo diciamo si è ingarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Bene, se Gesù Cristo si è fatto uomo e lo professiamo e lo celebriamo e lo testimoniamo, non possiamo che interessarci dell'uomo, di tutti gli uomini. Cioè la ricerca della felicità, del senso della vita, dell'importanza, del significato della donna nella società e nella Chiesa è qualcosa che attiene non a una parte, ma attiene a tutti gli uomini. Allora noi anche nella scelta delle tematiche abbiamo voluto guardare all'umanità. Tu dicevi prima riguardante la professoressa Albano che ha guardato l'arte al mondo, no? Attraverso l'arte. Bene, ci dice Giovanni che Dio ha tanto amato il mondo da mandare il figlio. Cioè il mondo non ci è estraneo, non ci è estraneo. Anzi, noi siamo inviati, andati in tutto il mondo. Ecco, la Chiesa in uscita. La Chiesa in uscita obbedisce a un comando di Gesù, non è un'invenzione del Papa. Lui lo ribadisce, no? Obedisce a un comando di Gesù. Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Questa Chiesa in uscita di cui parlava anche Monsignor Miniero Pocanzi. Allora noi abbiamo voluto porre al centro come dire l'uomo da una parte e il Signore dall'altra. Perché l'uomo è aperto all'infinito, cerca delle risposte, si chiede del senso della vita, della bellezza, della felicità, della realizzazione. E noi crediamo che soltanto una persona può dare una risposta, soltanto l'ingontro con questa persona può dare una risposta, soltanto l'ingontro con Gesù Cristo. Per cui il doppio sguardo, il tenere insieme, ingontro appunto. Che non è soltanto l'ingontro tra noi, è anche l'ingontro con il Signore. E questo dà risposta alla nostra vita come singoli e come comunità. Ecco dunque il porre al centro l'uomo con, direbbe il concilio, le sue gioie e le sue speranze, le sue tristezze, le sue angosce, nelle sue variegate dimensioni. E ci siamo chiesti chi può soddisfare questa sete, questo desiderio di infinito che ha l'uomo, di bellezza, di bene, di verità, di sandità, di grazia, cioè tutte realtà significative per la sua vita. Abbiamo detto può, soltanto l'ingontro con Cristo. E poi, dopo aver ingontrato Cristo, anche l'ingontro con gli altri. Perché Cristo poi ci aiuta a guardare gli altri in maniera trasfigurata, quindi come li guarda lui, per cui senza distinzione di razza, di razionalità, di sesso, di condizione sociale, di situazioni politiche e altro. Questo è stato, come dire, anche lo sforzo di questi ingondri e delle relazioni che sono state tenute da parte dei diversi relatori. Otto su tredici, mi onoro, sono docenti dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Salerno, tra cui un nostro condiocesano come sottolineato Don Damiano, che è qui convina con la nostra postazione ad Agropo, gli astro e altre parrocchie. Tra l'altro, ripeto, questo è un aspetto bello importante perché si mostra come effettivamente la teologia debba essere affrontata e fatta con un grande senso di responsabilità e di preparazione. E quindi di qui anche la scelta di affidare le relazioni sempre a dei docenti universitari che curano quella materia specifica. Ma poi come ci invita a fare Papa Francesco anche nel recente documento magisteriale che è rivolto proprio alle facoltà teologiche, quello di avere sempre una dimensione transdisciplinare, cioè di riuscire a toccare le tematiche con un'apertura al mondo, ma anche con un'apertura profonda tra le diverse aree della teologia. Proprio perché ad un mondo complesso, e verrebbe da dire con una battuta, ad un uomo che nella postmodernità è complessato, è necessario dare delle risposte che sappiano accompagnarlo e coinvolgerlo da tanti punti di vista, cercare di stimolarlo e di comprenderne appunto la complessità. Il sapere si è parcellizzato. Non c'è nessuno di noi che può avere la presunzione di abbracciare un indero campo del sapere e quindi è necessaria la collaborazione, andare anche oltre la singola materia affinché si possa avere uno sguardo più articolato, più completo, più unitario della realtà. Qui ci sono docenti di varie discipline, tutte le aree che si insegnano in un istituto superiore di scienze religiose, ma anche nelle facoltà teologiche, con la consapevolezza che non c'è nessuno che possa esaurire il sapere, non c'è nessun gruppo, per cui tendenzialmente bisogna essere aperti al contributo di tutti. Oggi si è troppo, forse per esigenze dovute al periodo che viviamo, si è troppo specializzato e parcellizzato il sapere. Qui bisogna avvertire di nuovo l'esigenza di ricondurla d'unità affinché possa parlare all'uomo di oggi nella concreta situazione in cui si trova, perché attenzione che poi dobbiamo essere anche attenti al contesto in cui noi ci troviamo a vivere, perché è in questo contesto che la teologia deve parlare, deve essere significativa. Allora dobbiamo porci in ascolto, ecco, per riprendere le parole del Vescovo, dobbiamo porci in ascolto del contesto congreto in cui viviamo e a cui dare risposte, risposte ingesive, risposte significative che tengano conto di quella realtà precisa dell'uomo in questo contesto. Poi un'altra esperienza che abbiamo voluto fare a partire dal secondo anno è quella di conferire un premio, un premio legato al tema e quindi siamo partiti con il tema della vita e abbiamo premiato Marina Casini Bandini, la presidente nazionale del Movimento per la Vita e in questo volume c'è anche la sua bella lettera, la sua bella testimonianza per un impegno di carità e di prossimità che il Movimento per la Vita fa a livello nazionale ma che tutte le realtà fanno a livello locale con i centri di aiuto alla vita, con appunto le sezioni del Movimento, con tutte le iniziative che consentono di accompagnare la scelta per la vita nascente perché questo è un tema di profonda attualità e allora noi abbiamo voluto affrontarlo in maniera simbolica conferendo il premio ad una realtà così importante e invece quest'anno abbiamo fatto una scelta diversa, si parlava della donna e abbiamo deciso di premiare una donna, la mamma del beato Carlo Acutis e devo dire che quando noi le abbiamo comunicato la volontà di conferirle il premio lei è rimasta un po' interdetta perché come sappiamo lei è molto impegnata e da anni impegnata per portare avanti la testimonianza del figlio come esperienza di chi ha scelto Cristo nella propria vita sebbene un ragazzino, sebbene adolescente e quindi ascoltandola si percepisce come senta quasi il dovere di aver raccolto il testimone dal figlio per far conoscere e far vivere Gesù e allora quando noi le abbiamo detto ma noi vorremmo premiare lei, le ha detto ma io che centro e nella motivazione che è anche contenuta negli atti del festival noi abbiamo spiegato che non è facile vivere un'esperienza di santità anche nella propria famiglia, in una persona cioè accompagnare un'esperienza di santità impone una responsabilità anche a chi sta intorno immaginiamo i genitori di Carlo Acutis come hanno potuto vivere e come sia stato importante anche non avendo in quel momento il dono della fede così forte come aveva il figlio ma da genitori accompagnare e valorizzare quel sentimento profondo che Carlo viveva allora anche qui riprendendo un passo del Vangelo noi abbiamo spiegato che alla signora Antonia quindi convincentola ad accettare il premio che dal frutto buono cade il frutto buono cade dall'albero buono ci dice il Vangelo e quindi evidentemente anche lei un ruolo in questa santità del figlio se lo doveva riconoscere e quindi questo è stato un altro momento emozionante e devo dire adesso mi farebbe coinvolgere un attimo di nuovo Angela perché sarebbe bello che lei ci raccontasse proprio come abbiamo poi deciso tu accennavi prima al fatto che abbiamo dovuto necessariamente decidere di coinvolgere in maniera diversa i giovani dell'azione cattolica non potendo fare l'iniziativa in piazza tra l'altro essendo prevista ad ottobre la beatificazione di Carlo la mamma non assumeva impegni pubblici quindi c'è venuta un'idea andiamo con le ragazze a casa sua ad intervistarle siamo andati in un altro posto bellissimo del Cilento Palinuro dove la famiglia salzano a casa da da tanto tempo dove Carlo anche veniva a fare i bagni quindi Carlo veniva a mare nel nostro Cilento quindi sono delle cose belle da valorizzare però Angela raccontaci un poco come è stata quell'esperienza ma è stata un'esperienza particolare intanto perché ecco di trovarsi proprio a casa della signora Antonia ci ha accolto a casa con una grandissima semplicità perché poi alla fine diciamo loro erano anche appena rientrati dal dal bagno a mare quindi davvero una spontaneità e una semplicità nell'accoglierci che faceva capire anche quanto poco formale fosse il suo relazionarsi quanto invece puntasse all'autenticità del rapporto che si stava per per creare le giovanissime noi abbiamo coinvolto diciamo tre tre giovani una quattordicenne eh una rappresentante del della fascia dei giovanissimi quindi dai 15 ai 18 una rappresentante invece della fascia dei dei giovani che va dai diciannove ai trenta un po' per avere una una rappresentanza totale di di tutto il settore giovani eh c'è stato un quindi un primo momento di confronto con delle domande che sono state pensate proprio dalle nostre giovanissime cioè non abbiamo preparato noi un copione sono state loro che hanno preparato delle domande in base a quella che era la sensibilità propria di ognuna di loro e quindi sono venute fuori anche domande abbastanza eh spontanee abbastanza eh originali rispetto a quelle potrebbe eh uno potrebbe pensare come intervista alla mamma di un santo eh intervista tra l'altro non so se ora faccio uno spoiler su ciò che vi dirà dopo Vito ma che potrete comunque vedere proprio vedere visivamente eh grazie agli atti perché sono stati corredati di una sezione multimediale attraverso il quadro quindi poi potrete andarla a rivedere questa intervista ma la cosa bella è che poi dopo eh l'intervista vera e propria ci siamo fermati per quasi un'oretta con la signora Antonia a chiacchierare lei che continuava un po' a pungolare le giovanissime per ehm per chiedergli se eh loro frequentassero abitualmente la la celebrazione ocaristica se andavano a messo ogni giorno il modo in cui loro vivevano poi eh le virtù sia quelle cardinali che eh quelle teologali e quindi diciamo c'è stato proprio un un rapportarsi molto eh molto profondo molto bello eh qualcuna delle nostre giovani poi si è presa anche il numero si sono continuate a messaggiare nel tempo quindi è stata comunque un'esperienza bella che le ha toccate profondamente poi essendo anche eh di fasce come vi dicevo prima diverse eh avevano anche una sensibilità diversa che hanno eh poi fatto trasparire eh nel momento in cui come accennavo prima eh si sono confrontati con i loro coetanei raccontando la bellezza di queste esperienze e facendosi loro stesse testimoni e missionari eh di un di un messaggio di santità possibile di una di una santità a dimensione dei giovani proprio. Proprio riguardo al eh ai frutti che anche la testimonianza di Carlo Acutis ha portato alle ragazze ha portato a ciascuno di noi è bello sottolineare come anche la nostra diocesi abbia partecipato in maniera devo dire anche massiccia alla beatificazione ad assisi di Carlo Acutis. Angela accennava al fatto noi abbiamo avuto varie parrocchie ci siamo ritrovati poi lì ad assisi eravamo andati con pullman diversi però eravamo tutti lì a vivere eh un momento di profonda spiritualità e come diceva Angela le ragazze hanno sentito forte il dovere della testimonianza rispetto a quella a quell'esperienza e naturalmente vi confesso che anche io adulto da quella esperienza poi ho visto nascere in me poi il desiderio anche di di scrivere di scrivere il libro su Carlo Acutis proprio raccogliendo quegli spunti cioè nel momento in cui la mamma di di Carlo parlava del stimolava le ragazze sulle loro virtù su come loro esercitassero le loro virtù e a me è venuta l'idea poi di sviluppare il libro la biografia spirituale di Carlo Acutis proprio incentrata sul modo in cui Carlo viveva le virtù e quindi come poi anche i ragazzi di oggi i nostri giovani e non solo anche gli adulti possono provare a meditare a riflettere sulle virtù per lasciarsi stimolare lasciarsi stimolare appunto dalla consapevolezza che la santità è qualcosa di prossimo per tutti cioè il Signore ci vuole tutti i santi e quindi noi dovremmo acquisire forse un po' di consapevolezza in più da questo punto di vista questo in tutta la scrittura siate santi no perché il Signore vostro Dio è santo ma il congilio l'ha ribadito che non è il privilegio di poche persone ma è la vocazione e di tutti quanti noi vuole fare un passaggio anche sulla dimensione dei premi no data delle persone che danno testimonianza la Signora Casini sulla vita tutto parte dalla vita nascente qualsiasi esperienza anche l'esperienza di santità se non nasci non la puoi fare e allora ecco l'attenzione a questa dimensione un'attenzione che io lo dico per esperienza personale il vescovo miniero non fa mancare sostenendo concretamente le attività ci è in realtà la vita perché riconosce il valore di questa di questa iniziativa di affiangare di farsi prossimo alle persone che sono in difficoltà in un momento di fragilità della loro esistenza e poi il premio alla mamma del beato Carla Cutis in questo caso è come dire il figlio che ha provocato i genitori anche a chiedersi a mamma in questo caso a chiedersi sul perché di una vita così attratta dalla persona di Gesù Cristo cioè l'ingondro con Cristo ha trasformato trasfigurato sarei dire la vita del figlio il quale cercava di vivere il Vangelo vedi chi poi vive autenticamente l'Evangelo diventa la sua vita il più grande messaggio la più grande provocazione la più bella testimonianza di quello che noi con il festival della teologia andiamo dicendo ai crocicci delle strade e in mezzo alle piazze e allora realmente dobbiamo come dire essere grati a chi in qualche in qualunque modo ci favorisce l'ingondro con il Cristo perché poi Cristo vuole cambiare diceva uno dei relatori una relazione fatta davanti alla parroccia di Maria delle Grazie che Cristo vuole cambiare anzitutto il nostro cuore la nostra vita e se lo ingondriamo realmente se lo ingondriamo in verità se lo ingondriamo e ci lasciamo plasmare da lui ci lasciamo interpellare da lui realmente questo cambiamento avviene e allora ringraziamo tutti quelli che a vario modo favoriscono questo nostro ingondro con il Cristo attraverso la loro vita semplice la loro vita normale la loro vita feriale la loro vita quotidiana che può essere quella della presidente dell'azione cattolica con il suo indusiasmo quella del vescovo con la sua responsabilità nel guidare questa chiesa locale con la sua bellezza e con il suo peso con gli aspetti positivi anche con le ombre che man mano devono essere diradate può essere quella di Vito che si è appassionata alla teologia e si è appassionato anche a Carlo Acutis nel giro di un mese due libri uno dietro l'altro sono stati offerti al lettore quindi io mi sento di ringraziare comunque le persone e in questo momento ringrazio anche tutti i telespettatori che che ci stanno guardando perché anche grazie al loro interesse se noi siamo ulteriormente ingoraggiati invogliati ad andare avanti in queste iniziative beh noi adesso ci prepariamo poi a vivere il quarto anno del festival della teologia lo faremo con un tema che è quello della giustizia quindi un altro tema impegnativo che si presta anche qui ad una lettura teologica ma anche ad una lettura antropologica ad una quindi è sempre il senso di prossimità che bisogna avere nei confronti dell'uomo e provare a declinarlo appunto con la luce di Cristo che illumina anche le azioni e le scelte lo faremo come di consueto nei primi giorni di agosto perché sono i giorni in cui il nostro cilento diventa centrale perché noi ci troviamo con la popolazione che quintuplica e quindi è proprio in questo momento che naturalmente noi dobbiamo portare la parola la parola di Gesù quindi a quest'anno il 3 il 4 il 5 fareva agosto avremo le rate del festival però naturalmente poi il programma lo dettaglieremo meglio nei mesi nei mesi che verranno diceva Angela prima che questo è un testo molto particolare molto ricco perché grazie alla collaborazione con cilento channel che accompagna il festival sia dall'inizio e devo dire con un grande sforzo perché se noi teniamo conto che questo festival nasce anche per creare un'iniziativa di valorizzazione territoriale tanto che è coinvolto il parco nazionale del cilento e vallodidiano e noi abbiamo tentato di fare sempre una dimensione itinerante del festival noi abbiamo coinvolto i comuni di ascea di agropoli santa maria di castellabate san marco di castellabate caggiano abbiamo quindi coinvolto palinuro quindi diciamo quest'anno avremmo voluto coinvolgere appunto anche vallo ma lo faremo ne abbiamo già parlato anche con il vescovo con un'iniziativa ad hoc proprio per perché è bello importante che la città della nostra dioce si sia parte integrante anche di questa iniziativa sebbene l'idea di stare un po più sui comuni costieri è evidente che serve proprio per raggiungere più più persone però questa attenzione ne parleremo fra un attimo è giusto averla allora naturalmente dicevo questa pubblicazione che raccoglie tutto questo grazie alla collaborazione con cilento channel consente come diceva angela prima di interagire con quelle che sono state le dirette perché perché negli interventi poi è inserito il qr code qr code per chi non è tanto esperto è quella 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 cosa grafica e nera che sembra una via di mezzo tra una macchia e un codice a barre in realtà quella inquadrata con l'applicazione del telefonino rimanda direttamente al video di youtube quindi si può leggere la testimonianza ma ci si può ricalare nella realtà di quella serata proprio attraverso il qr code allora anche questo devo ringraziare da questo punto di vista in particolare anche angela e andrè che da un lato e dall'altro hanno reso possibile diciamo questa compiutezza appunto della della pubblicazione allora naturalmente diciamo diventa una bella occasione questo testo è disponibile naturalmente in quelle che sono un poco le nostre librerie di riferimento quindi parliamo ad agropoli del largo libro in via mazzini quindi la discesa che porta al porto e la libreria che è presente presso il palazzo vescovile a vallo della lucania quindi sono le per il momento le due librerie fermo restando che poi la distribuzione può essere naturalmente abbiata come pure anche l'azione cattolica nei suoi canali associativi può essere terminale della richiesta delle copie quindi si provvederà a farle avere la scelta naturalmente di un prezzo di copertina minimo perché serve per finanziare il festival naturalmente questa è un'iniziativa che ha tante difficoltà anche di carattere organizzativo devo dire sottolineare che un'altra cosa bella è che chi partecipa al festival l'ha fatto a titolo gratuito noi anche i relatori i docenti universitari che abbiamo coinvolto gli ospiti che abbiamo invitato abbiamo detto siamo tutti sulla stessa barca dobbiamo evangelizzare vi possiamo offrire la cena vi possiamo ospitare casomai se vi volete fermare la notte perché facciamo tardi perché lo facciamo la sera ma non possiamo dare cachet come abitualmente si fa e quindi devo dire che c'è stata da parte di tutti una naturale disponibilità anzi non si è proprio posto il problema devo dire quindi proprio a riprova che quando si ha voglia di testimoniare annunciare cristo lo si fa con la gratuità che che dio ci insegna perché noi sappiamo ed abbiamo la consapevolezza che tutto è dono di dio e quindi anche questi docenti universitari oppure i gruppi di animazione che noi abbiamo coinvolto noi abbiamo avuto la comunità di rinnovamento dello spirito sangue e acqua da caserta che è venuta con un pullman a proprie spese per animare una serata abbiamo avuto la corale di vallo della lucanea che è andata ospite in un altro diocesi per portare quindi quando abbiamo fatto la tappa a caggiano abbiamo avuto i giovani della gioventù francescana di nocera materdomini quindi da un'altra diocesi che è venuta ad animare una serata c'è questo interscambio è anche bello perché mostra una chiesa vivace in uscita che ha voglia di stare insieme e di collaborare proprio per evangelizzare io direi a don bruno un ultimo passaggio prima di dare poi la parola al vescovo per le le sue considerazioni conclusive questo lavoro di questi tre anni è posto ora nelle vostre mani si è voluto lasciare la freschezza dell'ingondro immediato senza troppo apparati critici senza appesandire il testo cioè si è lasciato anche nel libro la dimensione colloquiale dell'ingondro affinché fosse anche più più semplice e anche più gustoso leggere il libro che tratta temi che riguardano tutti quanti noi sempre dall'inizio alla fine dell'esistenza il tema della vita il tema della felicità e poi il tema delle donne l'anno prossimo il tema detto vito della giustizia quindi sono temi rilevantissimi che però vengono come dire trattati e illuminati da una dimensione precisa che quella della nostra fede in gesù cristo della nostra attenzione della nostra prossimità del nostro ascolto delle persone per cui l'invito è a fare vostro questo testo nel suo contenuto perché non può che nutrire il nostro cammino di singoli e di comunità grazie grazie a don bruno anche perché come dicevo questo testo nasce parzialmente con perché abbiamo coperto solo in parte grazie al contributo che ci ha dato il parco nazionale del cilento vallo di diano e alburni le spese di pubblicazione si spera appunto che con un po di vendita di copie si possa anche finanziare oltre che appunto la pubblicazione di questo libro anche in parte quelle che sono le spese che vengono sostenute durante il festival a me dispiace che il presidente del parco non si sia riuscito a liberare dagli impegni istituzionali per essere con noi ma lo sappiamo vicino e quindi lo ringraziamo anche per per l'impegno che mette anche nel nel suo ruolo e in quello nuovo che ha assunto da da pochi mesi di consigliere regionale adesso eccellenza non resta che appunto dicevo prima che abbiamo avuto una un'idea che abbiamo condiviso con lei qualche giorno fa quella di formalizzare e ripresentare questi lavori poi a vallo quando avremo il programma definitivo con i relatori su questo tema della giustizia e soprattutto legato anche a quella che è la festa patronale della nostra diocesi quindi legata alla festa di san pantaleo abbiamo immaginato un po una data in prossimità della festa di san pantaleo che possa essere un momento proprio di riflessione per la chiesa vallese per poter accompagnarci poi in questa ulteriore tappa del del festival in calendario appunto nell'agosto del 2021 allora lascerei a lei adesso delle conclusioni prima poi naturalmente di salutare tutti i nostri ospiti grazie grazie e certamente con la pubblicazione che poi è interessante anche la interattività che avete dato a questo testo quindi non solo raccoglie ma attraverso le immagini permette anche di essere dentro a quanto si va a leggere quindi con questo testo voi avete messo un tassello un tassello importante all'iniziativa che oramai già da tre anni portate avanti quindi è bello e continuate su questa su questa linea anzi ancora di più cercate cercate di coinvolgere sempre più persone sempre più associazioni sempre più comunità per poter insieme starci starci in mezzo alle persone e riflettere insieme con loro sulle domande fondamentali della nostra vita quotidiane e con questo veramente vi aspetto vi aspetto a ballo della lucana per quel momento di cui si è venuto insieme con la presidente dell'azione cattolica a parlarmi qui in ufficio perché in questo modo diciamo che mettiamo mettiamo in un dinamismo ancora di più di circolarità qui nel momento cruciale della vita della diocesi la vita della festa patronale di San Pantaleone che è il patrono di tutta la diocesi e un momento molto bello molto partecipato che certamente aiuterà ci aiuteremo insieme meglio a trovare sempre quella voce che può far sentire la presenza di tutti allora vi aspetto qui a ballo della lucana nella presentazione di questo lavoro ma anche nella presentazione del nuovo incontro che si terrà nel 2021 bene allora io ringrazio naturalmente la sua eccellenza ringrazio angela russo la nostra presidente diocesana ed azione cattolica ringrazio don bruno lancuba il direttore dell'istituto superiore di scienze religiose san matteo di salerno ringrazio naturalmente andre giaccio che ha curato la regia di questo programma ma tutta la squadra di cilento channel perché quindi ringrazio gianni petrizzo ringrazio raffaella giaccio ringrazio gianni petrizzo ringrazio anche ciro rusciano che è stato con noi alcune serate perché è importante anche sapere che c'è una realtà così legata al nostro territorio che aiuta anche a portare il bello nella comunicazione e portare un messaggio di speranza come cerchiamo di fare con il festival della teologia è qualcosa importante farlo attraverso appunto i mezzi di cilento channel farlo attraverso i social farlo attraverso le condivisioni è ancora più importante e responsabilizza ciascuno di noi e quindi grazie grazie veramente a tutti perché è grazie alla collaborazione di tutti come ci diceva il vescovo realmente siamo alcune persone che naturalmente sono più esposte ma dietro c'è veramente come dicevo prima un senso di carità profonda nel collaborare insieme per portare avanti uno sforzo che appunto fatto con pochi mezzi però come stiamo vedendo diciamo riesce a garantire una continuità io terminerei qui se non chiedendo però al nostro vescovo di farci fare a tutti i telespettatori gli auguri di natale perché ormai siamo in prossimità della natività del signore di un momento che in particolare in questo anno può aiutarci a raccogliere la speranza e quindi direi direi di salutarci appunto con le parole del vescovo e con gli auguri del nostro vescovo sì una riflessione che vado maturando proprio in questi giorni in questo tempo difficile che stiamo vivendo non solo in Italia ma in tutto il mondo e quanto la nostra speranza venga messa a dura prova e anche la nostra speranza cristiana natale ci aiuta invece a radicare ancora di più il senso della speranza è Cristo che è venuto in mezzo a noi lui ci chiede di cambiare vita ma innanzitutto ha cambiato a lui la vita perché da dio si è fatto uomo e questo ci fa riflettere se si ha scelto la via dell'umanità per poter darci speranza e gioia di vivere di guardare in avanti vuol dire che non possiamo non possiamo cedere alla tentazione della chiusura la tentazione del dire si è fatto sempre così alla tentazione di chiuderci in ogni in ogni nostro intimismo il natale ci invita invece a guardare nelle tenebre la luce quella luce che ci permette di far leva sulle capacità dell'uomo sul bene dell'uomo quel bene che dio ha posto nel cuore di ciascuno a costruire il futuro il futuro che è davanti a noi non è l'augurio che faccio ad ognuno non chiudiamoci non sentiamo la tristezza di questo tempo certo è un tempo difficilissimo e tanto dolore attraversato tante persone tante famiglie ma Cristo si è fatto uomo e continua a ricordarci ogni anno che il bene che lui ci ha voluto è un bene che dobbiamo trasmettere all'uomo costruendo il futuro di tutti auguri auguri di speranza e grazie allora a sua eccellenza grazie a tutti quanti voi che ci avete seguito condividete anche sui social questa trasmissione perché è un modo per per continuare a vivere e a far conoscere questa bella esperienza come diceva don bruno fatevi un bel regalo di natale con questo con questo testo e a me non resta quindi che rinnovare i ringraziamenti a accompagnarmi agli auguri di sua eccellenza di buon natale quindi arrivederci a tutti e grazie grazie